Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nel corso del pomeriggio di sabato su Rosolini, ingenti i danni su tutto il territorio comunale. Alberi e cartelloni pubblicitari abbattuti, manti stradali divelti e tetti scoperchiati. Ad avere la peggio le due strutture sportive di contrada a Massicugno, con la copertura del Palasport Tricomi di Velta e la struttura tensostatica adiacente seriamente danneggiata con il telone lacerato in diversi punti. Vigili del fuoco e personale della protezione civile a lavoro per diverse ore per fare proprio la conta dei danni e verificare la stabilità delle strutture danneggiate e mettere in sicurezza appunto le strutture stesse. A lavoro anche il primo cittadino, Corrado Calvo, che dopo avere constatato di persona quanto accaduto ed avere effettuato i sopralluoghi nelle zone maggiormente colpite, ha immediatamente convocato la Giunta Comunale che, sulla base della dichiarata esistenza del carattere di eccezionalità, ha fatto la richiesta dello stato di calamità naturale per il territorio comunale. Una richiesta che sarà immediatamente trasmessa per i successivi adempienti legislativi alla Prefettura di Siracusa e alla Presidenza della Regione Siciliana. Il Sindaco Calvo precisa, alla luce delle entità e della consistenza dei danni alle strutture pubbliche, questa mattina abbiamo fatto richiesta dello stato di calamità per tutto il territorio comunale. I tecnici sono al lavoro per fare la conta delle strutture danneggiate e qualificare i danni che da una prima sommaria stima sono abbastanza consistenti. Vorrei, conclude il Sindaco, ringraziare i funzionari comunali e dipendenti reperibili dell'ufficio tecnico, i vigili urbani e il comandante e i vigili del fuoco per il pronto intervento e l'accertamento dei danni. Un'importante tromba d'aria, sabato scorso si è abbattuta qui su Rosolini, ha fatto ingenti danni come possiamo vedere qui da quello che abbiamo ripreso. Allora, cosa è successo precisamente? Intorno alle 17 io mi trovo all'interno della struttura, ho sentito un boato che è partito da quell'albero di Carrubba attraversando sopra il tetto e poi si è diretto nella struttura di acente, infatti io col panico sono scappato. I danni quali sono? È caduto il tetto come possiamo vedere? Praticamente è caduto l'isolante del tetto, ma all'interno non ci sono danni, solo infiltrazioni d'acqua, praticamente è saltato solo la termocopertura, cioè in mezzo tetto. Altri danni qui nei paraggi? No, nei paraggi no, sono stati qua solo fatti le due strutture accanto e poi basta, qua attorno non c'è stato niente. È stato chiesto a questo proposito lo stato di calamità naturale? Sì, già il sindaco ieri mattina, già sabato sera aveva riunito la giunta, ieri mattina c'è stata la giunta dove hanno chiesto lo stato di calamità naturale per i danni che sono accaduti.